ciao amici ciao amiche benvenuti in nuovo vlog flash volevo dirvi una cosa molto molto importante però questa qua ve la dovete ricordare una razza almeno così non c'è il voice over e l'ho detto in modo omogeneo e puccioso una razza a proposito di razza allora mettiamo anche questo incremento qua una razza due razze tre razze quattro razze 5 razze 6 razze 7 razze 8 razze 9 razze 10 razze una medusa un polpo una triglia una tartaruga di mare e una balena ci vediamo con un prossimo vlog flash